a raccontare le architetture tramite il cinema e le immagini alternando spazi vuoti e pieni luci e ombre storia e simbolismo spesso nei corsi di cinema si tende a tralasciare questo aspetto come se fosse di importanza secondaria rispetto a quella che è l'azione principale così non è non poteva che nascere a Forlì una città che sta cercando di rivalutare il proprio patrimonio un corso di cinema improntato proprio sulle architetture oltre che alle basi tecniche fondamentali per chi vuole lavorare in ambito video e cinematografico la formazione ha prestato anche particolare attenzione alla sperimentazione e all'autorialità nella realizzazione di questa particolare esperienza formativa questo è stato proprio l'obiettivo fin dall'inizio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti